Andiamo a conoscere un mazzo di carte che simboleggia il ciclo della vita, la continuità e l'armonia. I tarocchi tondi parlano di un destino che si compie, di una ruota che gira e non si ferma mai. Vi presento i Circo of All Life Tarot. Ciao a tutti e a tutte amici di Youtube, io sono Angela e benvenuti alla nuova puntata della Taroteca d'Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Benvenuti nel vivo di questa puntata. Andiamo a conoscere questo splendido mazzo visionando per prima la scatola che è molto resistente, compatta, molto bella anche graficamente. Per darvi un'idea giusto della grandezza nel complesso è di circa un diametro di 13,5 centimetri tutta la scatola. Potete vedere anche dal retro abbiamo principalmente l'editore, lo scarabeo, il circo of all art tarot con le varie indicazioni sulle lingue che troveremo all'interno del libretto e poi possiamo anche vedere un'anteprima degli arcani con la grafica e visionare proprio la composizione singola di ogni carta. Le lingue presenti sono l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e anche il russo. Possiamo aprire la nostra scatolina. Molto bella, molto resistente, come vi dicevo. Facile in un certo senso la presa del mazzo con questa linguetta. Facile sì, è vero. Non tanto facile perché ovviamente la forma circolare è abbastanza delicata. Dico delicata tra virgolette perché è molto facile che scivolino via. All'interno, in velluto, molto bello, la sede in fondo, questo piccolo manualetto. Il manualetto che possiamo vedere, adesso mettiamo da parte la nostra scatolina, questo manualetto, dicevo piccolino effettivamente perché le varie lingue sono soprattutto, vabbè io mi riferisco all'italiano che dovrebbe essere pagina 66 circa, adesso non ricordo esattamente però sì, più o meno siamo. Sì, pagina 66, ricordavo bene. Dove c'è una spiegazione che riguarda soprattutto la motivazione, il significato e la scelta proprio della forma e anche del tema, effettivamente che tutto richiama al circolo e al cerchio della vita. un qualcosa di infinito, se vogliamo, allo stesso tempo, di inizio e di conclusione. E c'è questa bella spiegazione che parla proprio del significato del cerchio nelle varie culture. Dalla notte dei tempi, cioè da quando effettivamente si è riscontrato sui graffiti, nella pietra, quindi nell'antichità, queste forme concentriche per arrivare ai giorni nostri. Ci sono varie spiegazioni che secondo me non sono molto esaustive. Infatti consiglio poi per chi si trova soprattutto per la prima volta a studiare i tarocchi di non prendere in considerazione purtroppo questi significati che in realtà in italiano e nelle varie lingue non ci sono, dico in questi. Perché c'è una bella frase poetica, molto spirituale, a volte per ogni singolo arcano, sia per gli arcani maggiori che per quelli minori e basta. Una piccola indicazione su una stesura che riguarda i cicli della vita, quindi dividere il mazzo in tre parti e poi fare questa stesura dove troverete il disegno proprio verso la fine. O anche qui c'è un'altra indicazione, sempre verso la fine. Direi però troppo striminzito in realtà. Qualche informazione in più la trovate nella lingua inglese perché per ogni carta trovate anche non solo il significato ma anche una spiegazione e ovviamente va a mostrare anche come rappresentata la carta stessa. Quindi direi un po' più esaustiva, ma in qualsiasi caso consiglio comunque di prendere in considerazione, di comprare dei libri, di attingere da altre parti. Andiamo a visionare proprio il mazzo. Come avete già capito effettivamente è tondo. Vi dico che il diametro è di 11 centimetri, effettivamente è abbastanza grande. La carta è abbastanza spessa, ha questo retro bellissimo e come potete vedere ogni singola carta ha il numero sopra nella parte superiore. Negli arcani maggiori effettivamente c'è sia sopra che sotto, nei minori andremo a vedere dove c'è il numero nella parte superiore e l'indicazione del seme nella parte inferiore. Come vi dicevo il retro è questo mandala molto bello, molto significativo, molto colorato. Poi sulla qualità della carta è abbastanza resistente. L'intero mazzo è un po' difficile da mischiare, quindi consiglio un tipo di mescolamento, un tipo di metodo di creare il caos, quindi di prendere le carte e sparpagliarle sul vostro tavolo, quindi meschiarle manualmente in questo modo, perché potrebbe essere veramente difficile utilizzare altri tipi di mescolamento. Abbiamo visto più o meno le misure, la qualità ottima, assolutamente, e adesso possiamo iniziare ad andare a vedere le singole carte, partendo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci, di fronte agli arcani maggiori, i primi undici, perché per motivi di spazio, visto che sono abbastanza grandi le carte, andrò a dividere in due, quindi adesso vediamo i primi undici e poi vedremo i secondi undici, quindi dal matto alla ruota, dal zero al dieci. A livello artistico, ovviamente ci tenevo a dire che l'artista che è stato creato questo mazzo da Maria Di Stefano, lo troviamo proprio sul mazzo. Poi non solo, ci sono anche, c'è chi si è occupato della grafica, Chiara De Magistris, le istruzioni sono di Bepi Vigna, e quindi poi ci sono tutte le varie traduzioni e le altre cose. Una cosa importante che volevo dirvi, effettivamente, come già anticipato prima, che troverete le singole carte con i numeri, sia nella parte superiore che nella parte inferiore, il bordo bianco, la grafica o ciò che è stato utilizzato come tecnica è l'acquerello, da quello che si vede. E poi il tema, effettivamente il tema è molto affascinante, molto bello perché parlando del cerchio della vita, effettivamente è stato proprio introdotto anche nei vari elementi, simboli, personaggi che sono stati rappresentati nelle carte. Quello che mi preme dire è che effettivamente è un mazzo abbastanza complesso, lo si può vedere, lo vedremo anche con le altre carte, perché io questo tipo di mazzo lo chiamo un mazzo ibrido, misto, perché si può pensare che magari possa appartenere alla scuola marsigliese, visto che troviamo al numero 8 la giustizia, e quindi troveremo poi al numero 11 la forza, cosa che invece nella scuola inglese, Wade Smith, troviamo il contrario. Però effettivamente ci si aspetterebbe, poi vedremo negli arcani minori, che fossero solo le carte numerali, soprattutto con il numero e il seme, e invece li vedremo con una loro rappresentazione. Quindi ecco perché secondo me è un mazzo così misto e ibrido. Questa è la prima visione, come vi dicevo, degli arcani maggiori, e adesso man mano andiamo a scovare altre informazioni, vi ricordo che poi subito i maggiori troverete lo slideshow per visionarli uno per uno, e quindi concentrarvi su ogni singolo particolare, anche per capire effettivamente se può essere un mazzo che fa al caso vostro, oppure no. Adesso passiamo al secondo gruppo dei maggiori. Ecco il secondo gruppo degli arcani maggiori, quindi partendo proprio dal numero 11, la forza, per arrivare al numero 21, il mondo. Come vi dicevo prima, effettivamente essendo un mazzo ibrido, troveremo alcune indicazioni che si rifanno alla tradizione, quindi riconosceremo sicuramente nell'appeso questo personaggio, appunto che è appeso a questo albero, oppure possiamo vedere anche nella temperanza, questo che sembra essere comunque un angelo, mescolare le sue due coppe, e tante altre, tante altre indicazioni. È ovvio che in molte, per esempio quella del sole, anche altre che abbiamo visto precedentemente, si fa un po' di fatica, e poi soprattutto quelle che vedremo negli arcani minori, a rifarsi alla tradizione. Da un lato è un bene, dal lato può essere un po' difficile interpretarli, perché se voi avete l'esperienza, e quindi conoscete già i significati tradizionali, non avrete nessuna difficoltà, anzi, queste saranno un'integrazione, perché i vari elementi che troverete nelle carte, possono arricchire la vostra esperienza interpretativa, di ulteriori suggerimenti, e tratti a volte abbastanza interessanti, perché di aspetti simbolici ce ne sono tantissimi, visto che si rifà un po' alla madre terra, al cerchio, che tutto contiene, allo stesso tempo tutto esclude, quindi è bellissimo come concetto, e permette di concentrarsi proprio sull'immagine stessa, di ogni singola carta, che come vedete i colori sono molto belli, forti, ovviamente, per accentuare il significato, secondo me, di alcune carte, che sono molto potenti, molto forti, altre, un po' più tenue, un po' più delicati, e quindi, secondo me, seguono anche effettivamente, il significato stesso, della carta, se volete, potete fermare il video in questo momento, però, insomma, vi ricordo che adesso trovate lo slideshow, così potete visionarle una per una, e noi poi ci vediamo, per ogni gruppo, degli arcani minori. e noi poi ci vediamo, Grazie a tutti. 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 nel libretto non sono carte realizzate per avere un dritto ed un rovescio però mi viene un po' da dissentire perché effettivamente se si mette il numerino in questo modo nella parte che quella può essere effettivamente superiore e il simbolo e in questa parte secondo me automaticamente si può anche dare un verso alla carta e poi anche se noi andassimo a togliere effettivamente sia il numero che il simbolo si intuerebbe subito che ci troviamo magari di fronte a una carta che è capovolta quindi poi dipende dalla vostra sensibilità dipende anche da come volete interpretare le carte se seguire il suggerimento che è stato dato dal dall'artista stessa comunque dai significati che troverete oppure cercare anche qualcos'altro come ho fatto io effettivamente se volete potete fermare il video per vedere meglio le carte e adesso noi proseguiamo il nostro percorso con i bastoni eccoci di fronte al seme di bastoni quindi il nostro terzo gruppo potete notare visionando ogni singola carta che la grafica è molto molto interessante ovviamente questione di gusti sì sicuramente però secondo me nessuno nessuno può prescindere dal fatto che hanno un fascino molto molto forte e coinvolgente ogni singola carta secondo me potrebbe essere anche utilizzata in modo diverso cioè non tenendo conto dei significati dei tarocchi ma guardarle come se fosse un oracolo e quindi seguire la propria intuizione ciò che sentite dentro di voi quando osservate una carta e quindi trovare quei suggerimenti quelle indicazioni e quindi ecco che può diventare appunto sia mazzo di tarocchi sia anche un mazzo oracolare anche qui potete fermare il video per vedere meglio queste bellissime carte e noi proseguiamo poi con l'ultimo gruppo quello delle spade eccoci giunti nell'ultima parte di questa taroteca nella missione di questo meraviglioso mazzo con il gruppo degli arcani minori spade e cosa c'è da dire effettivamente giusto sottolineare quello che abbiamo visto nel nel corso e nella visione di tutte le altre carte che voi troverete tantissime informazioni e simbologie c'è di tutto di più dalla dall'alchimia dai simboli colori mitologia fantasia queste figure purtroppo morfe che vi dicevo prima effettivamente una molto particolare quella del due di spade dove c'è questa donna integrata al massimo con un elefante e che ha al posto delle delle zanne queste due spade o che possono sembrare anche delle sciabole i significati sono quelli effettivamente le quelli che troverete nel libretto soprattutto nella parte in inglese come già detto solo che in alcune è un po più facile individuarle per esempio come lotto di spade dove l'indicazione di chiusura di blocco lo si vede proprio o blocco o di prigione proprio dal da questo uomo che sembra essere proprio chiuso in una in questa stanza murata dove sta cercando appunto di scappare di evadere e una interpretazione diversa dal punto di vista grafico e che sicuramente molto affascinante però come vi dicevo effettivamente i significati rimangono quelli se si vuole trovare altro e secondo me è una cosa che si deve assolutamente fare con questo tipo di carte è lasciarvi coinvolgere e trascinare dal vostro intuito e dalle vostre emozioni per concludere è un mazzo molto particolare in realtà non lo consiglio ai neofiti consiglio assolutamente l'acquisto perché per il livello artistico e per la particolarità secondo me nella propria biblioteca cartomantica non può assolutamente mancare poi molto affascinante come vi dicevo da da studiare se avete ovviamente voglia e tempo di farlo e un'altra cosa sicuramente importante di questo mazzo proprio per concludere che è soprattutto indicato per quelli che vogliono espandere le proprie conoscenze quindi per chi in realtà conosce già il significato degli arcani io modestamente cioè ho studiati ho cercato il più possibile sto ancora cercando di di comprenderli qualcosa riesco anche ad andare oltre cioè nel senso che alcuni significati io l'interpreto anche in modo diverso cioè usando i contrari perché se si prende la carta come vi dicevo prima effettivamente si può anche usare utilizzando indicativamente queste polarità e quindi se mi ritrovo la carta in questo modo la vado a interpretare come una carta come un significato al contrario cosa che però va totalmente oltre alle indicazioni che troverete appunto dall'artista stessa e poi un'altra cosa secondo me interessante come suggerimento che a volte io nelle mie letture do anche un significato diverso anche se trovo la carta per esempio se indirizzata verso di più la parte destra oppure verso la sinistra ad esempio trovandomi questo fante se lo trovo su una carta in questo modo cioè secondo me ha un'energia maggiore che va verso ad esempio questo sette di spade e quindi più forte c'è più determinato alla alla ricerca ai nuovi inizi a una nuova conoscenza invece altrimenti se va dall'altra parte come in questo caso quindi tende verso sinistra nella parte del del passato nella parte dell'ombra e delle qualità in espresse allora mi viene da pensare che effettivamente io devo fare un lavoro maggiore per cercare nuovi input nuove idee e quindi anche un nuovo entusiasmo questo è giusto per darvi un suggerimento di di lettura che però ovviamente è totalmente mio lo potete prendere solo così come come spunto di riflessione si conclude qui la lettura ringrazio per avermi seguita se volete sul canale trovate tante altre cose interessanti in descrizione trovate i link per contattarmi per prenotare un consulto chiedermi informazione e ovviamente trovate anche i link per acquistare questo splendido mazzo alla prossima ciao e grazie